Un bacione che ha fatto il volo da zenzero e limone, perciò era giusto che poco fa ho fatto la diretta e a nessuno ho salutato perché effettivamente dovevo cenare, ho avuto un po' di guai effettivamente, mentre che mi sono ricambato dal lavoro, ho trovato l'acqua, mi ha procurato l'acqua, mi ha fatto una doccia con l'acqua bagnata, dopo la televisione un zivetto e registravo tutte cose, mangiavo veloce veloce, ora è il tempo che mi bevo, sta bella cosa rinfrescante, indovina, indovinello, cosa sta bevendo il re zenzerello picciotti, è azzurra e bianca, una bevanda veramente che il mondo veramente sconosce, segreto, trucco e trucchetto dal re zenzerello picciotti, e non la dico in diretta, qualcuno è improvato, effettivamente la dirò, ma questa è una cosa, vero, di indranare, di pisciare, di fare diciamo aria, pirita, e di digerire, e di fare diciamo anti affettamento, anti diciamo costituzione, eccetera, è una tisana rinfrescante, ogni causa. Allora, ciao Roberto, saluto dieci minuti, picciotti, domani mi so sarei cinque, perché mi ne chiedo a travagliare, il parco non travaglio, ma travaglio, domani mi so sarei cinque, saluto dieci minuti, il tempo di bevermi sta bella tisana, e dopo voglio ringraziare veramente tutti coloro che effettivamente Morale della Pavola stanno cantando la mia canzone su sitemi, ti vieni a travagliare, da zenzerello limone, l'autore, e grazie a Mario Di Stefano, compositore veramente da Palermo, casa discografica, effettivamente che mi ha aiutato lui, diciamo, a suonare, chiede che suonare, io ho messo le parole, e lui mi ha sistemato, diciamo, al ritmo, diciamo, di canzone, con ironia, allegria, senza offesa per nessuno, e già di TikTok ci sono centinaia e centinaia di video che questa canzone la vanno cantando, mi piace che effettivamente è una canzone, diciamo, allegra, o ricchiabile, diciamo, è una canzone che si può cantare senza offesa per nessuno, perché Morale della Pavola, travaglio, non ce n'è, magari io ci metto l'ironia, su sitemi, su sitemi, in senso che io ti vengo a travagliare, insomma, l'agnose. Allora, Roberto Melfa, la canzone è bellissima, la canzone è bella, è ironia, picciotte. No, no, io ho un sogno cantante, però ci sono andato buono, ci sono andato buono, ciao, la gattina bella, Roberto, Anna, Polito. Allora, io ci ho messo l'ironia per divertirmi io e tanti ragazzi che in questo momento, effettivamente, c'è poco lavoro, picciotti, ciao, Antonella. Io magari ci ho messo, ci ho scherzato un po', però sappiamo che in Sicilia, al sud, il lavoro non ce n'è, parliamo di chiaro. E io magari, effettivamente, qualcuno mi sta criticando, la critica fa bene, dice che magari tutti i ragazzi ce l'hanno con me che per la gnose, ma non è vero. Io pure faccio la categoria della gnose, mi sono trasformato di un ragazzino maggiorenne, in quanto mai effettivamente l'ho messo in allegria con questa canzone, inventandomi quattro parole, inventandomi, e per fare, diciamo, divertire i ragazzi. Ora voglio salutare Morale dalla favola, ciao Mariano Morale, ciao Giacomo Bilardello, salutiamo a tutti i picciotti, sono venuto in diretta perché stanco, stanchissimo veramente, a parte scherzi, tutti siamo stanchi pur sento che magari non si sta lavorando perché c'è cavolo, cavolo, copero, picciotti, poco fa sono uscito fuori qua a Villarosa, ancora avevamo 39 gradi, significa che siamo avevamo 39 gradi e tutti in piazza qua su Genugno, sono le 22 e 19, avevamo 39 gradi, c'è un vento di scirocco, cavolo, veramente che ti brucia la faccia, stiamo negli indi, picciotti, che potete stare negli indi, quello che potete fare a meno, diciamo, stare attenti fuori, viviamo sempre, beviamo sempre acqua, viviamo, mangiamo verdure, non mangiamo pesanti, non mangiamo cose grasse, non mangiamo pacchiamo la carne, non mangiamo proprio, non abbuffiamo, perché fa male i picciotti, ama beviamo acqua, viviamo sempre acqua, tisane belle fresche, e magnesio, bevete magnesio, potassio, polase, integratori, che fanno bene questo cavolo, integratori, integratori, qualsiasi modo di integratori, babbiate con la salute. Allora, il re dello zenzero vi consiglia di prendere tanti integratori, pure l'omega 3, omega 3, olio di pesce, e, vi dico, arriva, magnesio, potassio, polase, tutte queste vi aiutano a bevere sempre acqua, e mangiare leggerissimo, verdure, in senso fresche, cucuzzi, ciclioli, i caroti, l'ananas, e mangiate il kivio, il kivio, mangiate, diciamo, cose belle fresche, perché questo cavolo, picciotti, stiamo attenti, mancate di salute, perché la migliore ricchezza è la salute. Ciao Dallonforte, ciao Pietro, Cravotta, Nasello, Carmelo, manca la luce, come facciamo? Eh, qua manca l'acqua, ciao Rosanna Conte, buona serata. Perciò io chiedo ai miei amici miei, vi faccio, diciamo, un consiglio, perché ci sono gli amici, degli amici che magari non la sanno, questa canzone, ma non perché mi... io un sogno cantante, è una canzone che farò, è facile, questa canzone, era una cosa che mi piaceva, farla e l'ho fatta, per farla conoscere dovete aiutarmi a condividerla a quanto siete, se vi fa comodo, consiglio gli amici, degli amici, uno, diciamo, conoscere la bella canzone di zenzero e limone, picciotti, senza offese, è divertevole, ironica, con allegria e simpatia, veramente. Io chiedo qui, ciao Michela Salamone, io chiedo qui, un bacione che ha fatto la bella zenzero e limone, è giusto che ci siano i critici. Allora... Tanti saluti dai Vigili del Fuoco di Canigatti, saluto tutti i Vigili di Canigatti che fanno un lavoro veramente sacrificante, veramente, un saluto veramente, un bacione a Chiapalavolo a tutti i Vigili del Fuoco, attualmente saluto tutti gli operai, quelli dell'autostrada, tutti i lavoratori, so che hanno cambiato pure l'orario per quelli dell'autostrada, perché ho tanti amici, hanno detto che ora montano al lavoro dalle quattro e mezza di mattina fino a luna, a luna, almeno lavorano con il fresco. A Roma, ti sto facendo la pubblicità, Rosanna, condividete la canzone, la canzone è bella, ironica, ironica, veramente che piace, è orecchiavole. Mi inventavo queste parole e grazie a Mario Di Stefano, che è buono, diciamo, un ottimo compositore, mi ha messo la musica che volevo io, musica, diciamo, divertevole, senza un lamento, perché a me mi piace l'allegria e la simpatia. Allora, io vi dico effettivamente di condividere questa canzone, perché quanti siete amici miei mi seguite? Ci sono gli amici degli amici, condividendo questa canzone magari ci fa piacere ascoltarla, però metteteci che è ironia, non è, diciamo, una canzone senza offesa per nessuno. Io voglio bene i carosi, voglio bene veramente i ragazzi, ho una famiglia che adoro, voglio bene la gente, però nasce da un social l'ironia, Purtroppo la vita è, come si dice, è cambiata, veramente. Per tante bambini, per ragazze, cosa è che non è una vita come erano, che abbiamo sofferto noi da pecceredi, che magari non avevamo niente. Oggi magari sono contento che tante pecceredi e ragazzi oggi, come oggi, hanno qualcosa, diciamo, di svagarsi, di credere da. Quello che dall'infanzia non ho avuto io e tutti, come si chiama, coetani come me, che effettivamente quando eravamo pecceredi, effettivamente eravamo sacco di bastone ad andare a lavorare. Oggi effettivamente io dico che tutti questi ragazzi che si godono la vita di qua e di là, pur sento che effettivamente con poche, diciamo, con poche, diciamo, social, e che voglio dire, magari si godono la vita perché io rimbianco tutto quello che non ho avuto in questo, diciamo, effettivamente, quello che ci è successo. Io dico che forse è ragazze. No, 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 io a parto scherzo, caro signor, ciao Vincenzo, buon signore, viva acqua, Luciana Chianese, io vi faccio un saluto, un appello di condividere quella ragazza, quella canzone magari su YouTube oppure la diretta, che cavoletta fa facendo, sei un grande lagnoso, sei un grande lagnoso. Allora, c'è un mannino patizzo, oggi i bambini ne hanno tutto, più questo mi fa... No, a me mi fa piacere pure, perciò, veramente. Ippi avere una bicicletta che non l'ho mai avuto, l'ho sempre desiderato, e attualmente penso che effettivamente mi hanno promesso un mio zio una bicicletta, e io ci ho restato male, veramente, quando ancora avevo 18 anni, attualmente ci penso che mio zio, che aveva i soldi, mi promise che aveva affare, quando faceva il compleanno, la bicicletta. Io avevo 8 anni, aspettavo 20 anni, aspettavo finora, mio zio è morto, e ancora ha spinto la bicicletta che effettivamente mi deve regalare mio zio. Oggi come oggi, carosi, le biciclette le hanno a tempo di 2 anni, tutti gli ucchi le hanno a tempo di 2 anni. Ancora gli aspettavo la bicicletta, va, parlamone chiaro. La news è su 7, ciao Vincenzo, con te vedi, la news è su 7, in dialetto, Villa Rosano pure, Borale della favola, con te vedi la vincenzo, e con ironia, ciao Valentino, uno si deve divertire, picciotti, io non rimpianto niente, ci divertiamo, sì sì, noi avevamo altri tempi, giocavamo i quattro cantoneri a tavola lunga, giocavamo i petri a scacciare, giocavamo i pallini, giocavamo il birro, questa paglia di birra, giocavamo la muccia redda, giocavamo la chiappa redda, senza niente, ne inventavamo i giochi, giocavamo le chiappette, le petri a pigliare, insomma, ne inventavamo i ucchi, di solito giocavamo i quattro cantoneri a muccia redda, diciamo, a nascondino in italiano, eravamo veramente, beh, le quartiere c'erano pure i carosi, insomma, era una cosa diversa, era. Francesco, buonanotte, buonasera Patrizio Graziella, salutiamo Gioacchino, da piccolo io ho avuto un lavoro, tutti lavoravamo quando eravamo picciredde, io quando venivamo a scuola, mamma, o venivamo a barbire, a tagliare i capelli, o venivamo a barbire, o venivamo a ferraro, quando venivamo a scuola, neanche mica eravamo, venivamo a lavorare, impararci il mestiere. Tony Giudice, ciao, basta, Tony Giudice, basta, 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 basta che lo dici tu, basta. Allora, Salvatore Maraveglia, puoi salutare Fabiana Licata, è una grande fanza, ciao, saluto da Zenzero Amore, un bacione a chiappa alla volo, ciao Fabiana Licata. Nico, salutiamo Tony Giudice, ma qui, qui te sani. Allora, allora, Tony Giudice, ma quanto parla? Allora, parla tu, ecco parla, sono parlato e stiamo in moto. Tony, ma ora mi sto in moto, hai a salutare la gente, hai a dire qualche cosa. Ho sentito un atto per le pennele scadute, parlamone chiaro, e ora quando parlo? Nada cavolato, Fabrizio Spettale, ciao Fabrizio, Rosanna Conte, Fabio Di Gregorio, ciao, Johnny Armenia, buonasera, Michele Termino, un saluto da Campobello Licata, ciao, Claudio Fonte, ciao, da Genova, e me, mia figlia Alessia, ciao Claudio, Mario Rivettuso, ciao Zenzero, un saluto, Tony Venturella, ciao Tony, troppi vizi, Rosanna Conte, rete, rete, un saluto da Troina, ciao Alex, Alex, Troina, bella cittadina, veramente, un saluto veramente all'onorevole, veramente che effettivamente merita, e tiene Troina, diciamo, bellissima, che ho visto, diciamo, Fabio Venezia, veramente una persona che ho conosciuto, e mi ha invitato al comune, per, io che ho elogiato, diciamo, Troina, per me è stato onore essere ospite dall'onorevole e dall'assessore Fabio Venezia, non è una pubblicità, perché ho visto una persona disponibile, che effettivamente a me mi ha accolto, diciamo, di un, di un, come si dice, di un grande eroe, perché io ho fatto, ho parlato bene, e ho fatto un appello, e faccio un appello, a tutte, diciamo, gli amministratori del caderno, di aggiustare le strade, di tutte queste strade montane, di Gagliano, Troina, di Calbuto, e con Nicosia, perché effettivamente c'è una strada disagiata, belli paesi, belle cittadine, montane, però i strati, la regione siciliana, stavo a dare una mossa, visto che Fabio Venezia, l'onorevole, è, diciamo, a Palermo, deve sbattere i pugni, perché Troina, con l'oasi che c'è, per i disabili, che c'è tanto, tanti bambini, che c'è una struttura, veramente, che curano delle bambine, perché è già un buon fare, diciamo, questa avventura di una strada, che non è buona, di transitabile, a prescindere che Troina, e tutti i paesi, dell'Etroterra, di montane, sono belli posti, veramente, di turismo, come tutta la Sicilia, zona di mare, zona dell'Etroterra, veramente, e io faccio una volta, un appello, di sbattere i pugni alla regione, veramente, di fare aggiustare tutte le strade siciliane, per avere delle persone transitabili, delle strade, che tutti i paesi, meritano, tutto quello, che effettivamente, desiderano, di visitare, tutti i paesi, a prescindere, Villa Rosa, che il mondo sconosce, ci sono state già, tanti visitatori, qua a Villa Rosa, grazie al re, dallo Zenzero, però tutta la Sicilia, è bellissima, come tutta la Calabria, tutta la Puglia, e tutta l'Italia, parlamo di caro, Deborah Di Fazio, ciao, saluti da Cireale, bellissima città, ciao Donato, ciao, sei un grande, tutto quello che dici, allora, protesti, salutare, grazie mille, sì, ciao Manuele Purpore, ciao Caloggio Eramentolo, ciao, ciao Zenzero, buonasera, Antonio Maniglia, tantissimi saluti da Londra, sono grande persone, grazie, a me mi piace la Sicilia, la Sicilia del mio cuore, veramente, la Sicilia merita veramente, tanti re dello Zenzero, che inoltrano veramente, ognuno che inoltrasse, e dicesse, tutte le bellezze nostrane, paesane, o mangiare, la cultura, il turismo, di inoltrare, io ho detto sempre, che ogni paese ci volesse, non per avandarmi, un Zenzero e il limone, ogni paese, pur sendo che per qualcuno, sogno pazzo, sogno drogato, qualcuno mi ha preso, sogno alcolizzato, sogno lagnoso, io mi condendo tutte queste parole, che mi avete detto, però, con tutte queste cose, che mi avete detto, tutte queste critiche, mi hanno fatto bene, a crescere, e far conoscere, la Sicilia, Villa Rosa, e tante erbe, e tisane, da Zenzero e il limone, pur sendo che io, mi fai a parlare, bene in italiano, ho notato, le mie tisane, e le mie erbe, dette da mio nonno, dopo, è uscita la ironia, e mi sono divertito, e tante persone, e ringraziamenti, di persone, disabili, anziane, che mi seguono, pure da casa, che mi dicono, in tanti, che io gli do compagnia, gli faccio compagnia, di tutti i video, di qua e di là, e io ne resto contento, e vado avanti, per tutte queste persone, che effettivamente, che non possono insuffrire, di uscire, ma almeno hanno un cellulare, finalmente la tecnologia, ha fatto felice, a tutti questi anziani, che almeno, un solo capito, in un re dello zenzero, ma vedono, tante cose, dai cellulari, che almeno, hanno una compagnia, e non sono soli, che tanti anni fa, c'erano tanti anziani, che restavano a casa, effettivamente, porale della favola, e magari, si moriva, di malinconia, e non avevano niente a casa, ora tutti gli anziani, e tutte le persone disabili, effettivamente, pur sento che sono a casa, soli, e hanno come un re dello zenzero, come tanti, che diagolano, diciamo, di questi cellulari, e stanno in compagnia, pur sento, e in allegria, e magari, non muoiono, veramente, di malinconia, a me mi fa, forza, e coraggio, e se vai avanti, pur sento, che sogno stanco, 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 per queste persone, che effettivamente, che in tanti messaggi, mi ringraziano, per chi giocafazzo, pur sento, caglione, ci metto, la mia faccia, e magari, vi sono preso, tante offese, veramente, che non merito, non merito, perché io ho inottato, la felicità, l'allegria, la salute, la migliore ricchezza, la salute, punto, e basta. Ciao Vincenzo Tarara, salutiamo, ormai, calogeno, lo avevo sempre, no, ma io, sempre la verità, io vado avanti, per queste persone, lo dico sempre, io vado avanti, picciotti, vado avanti, perché mi piace, a prescindere, che giocafazzo, mi piace, inottare, diciamo, che giocafazzo, inottare, pur sento, che hai tante critiche, di ingurdo, e ci vuole la critica, perché, non tutti possono piacere, posso essere, stancante, posso essere, che qualcuno si stuffa, magari, però, a un momento, capisci, che io, ci metto, a mia faccia, ci metto, l'ironia, veramente, mi piace scherzare, mi piace babbiare, e mi piace dare la salute, e mi piace dare consigli, delle cose, che io conosco, delle mie tisane, veramente, quello che mi ha introdotto, mio, nonno, veramente, sarebbe, e io, l'ho data, e tutto quello che faccio, veramente, non lo faccio, per speculazione, o faccio tutta gratis, veramente, non ho fatto mai, spiego, pure la canzone, che è uscita, io l'ho lasciato libera, veramente, l'ho fatto, e l'ho dato libera, in senso, che la possono cantare, qui e chiedi, che ti dà, però, è registrata a Roma, giustamente, dal, casa discografica, di Mario Di Stefano, è registrata, nessuna può copiare, però, effettivamente, io, un sogno cantante, mi ho voluto dare, uno stacchetto, di questa canzone, per dare un'allegria, e simpatia, a tutti, va, parlamoli chiaro, Rosanna Conte, tanti messaggi, si vede, che hai un bel, no, ma io, mi piace divertire, fare divertire, grazie, grazie, ma la dica, si pesca sempre, calo, Geromento, la fregatella della gelosia, ciao, grazie, Giovanni, no, no, ma la critica, se non c'è la critica, con vai avanti, la critica, qualche volta rispondo, qualche volta mi fanno arrabbiare, qualche cosa, magari qualcosa, lascio perdere, un saluto da Grigento, si, si, Valentino, ora mi va pure, qualche segno stanco, che domani, mi devo sospettare, alle 5, che domani, sei una di mattina, monto di mattina, no, no, mi piace, io, l'unica cosa, che vi chiedo, per chi, che mi vuole bene, di condividere, questa, magari, diretta, la canzone, perché, è una canzone, divertevole, pur sendo, che magari, qualcuno, si può offendere, ma, io, ho detto prima, è con ironia, la canzone, è ironia, punto, i giovani, lo sanno, io, vicino a casa mia, vengono, tante ragazze, giovani, che si vogliono fare, la foto con me, e io, con tanto piacere, mi aspettano, fino a che, i vigni, di lavorare, che si vogliono fare, la foto, perché, effettivamente, ci piace, pure loro, questa canzone, che ho fatto, ma, ora, la lavavola, tanti giovani, sono venuti, a farsi la foto, e mi cantano, una canzone, diciamo, la news su setere, veramente, a me, mi fa piacere, Martina De Santis, complimenti alla canzone, l'ascolta, la canta, metta le grazie, ciao, Salvatore d'Acata, Salvatore di Acate, inoltre, tutto quello che hai, la Sicilia, è tipo Milan, ma no, ma, io sono simpatizzante, picciolta, ma, viva la Sicilia, io non sogno, un tifoso, sono tifoso del Milan, simpatizzante, come la Sicilia, ci sono tanti tifosi, gioventini, tanti tifosi interisti, chi c'entra, ma, mica, io sono effettivamente, io rispetto, i tifosi da Napoli, dell'Inter, da Milan, da Fiorentina, da Roma, io rispetto, i tifosi da Palermo, insomma, se dopo, io ho una squadra siciliana, è normale, che io sono, un tifoso siciliano, non siamo a mettere, da conto, o Milan, o Juventus, e tutti, il calcio, perché, il calcio è corrotto, è questione di soldi, cade, ci dobbiamo rispettare, ci dobbiamo volere bene, ciao, salvo d'accorso, salvo, ti piace la canzone, vero? santo le pane, va a travaglia, ora, domani, senza il limone, ma la canzone, quanto si troverà, su YouTube, già c'è, basta che ci mettete, su sitemi, la news, ha trovato, c'è il mio canale, picciotti, iscrivetevi al mio canale, seguitemi, allora, come zenzero e l'umore, Patrizio, c'è un canale su YouTube, e c'è la canzone, in tanti modi, c'è quella tutta integrale, c'è chi l'ha tagliata a metà, di 15 secondi, perché, si può cantare, a 15 secondi, un minuto, e dopo c'è quella integrale, perché, te la fanno mettere, se tu la vuoi cantare, a 15 secondi, un minuto, e dopo, c'è chi l'ha tagliata, Massimo Morella, buonasera, buonanotte, grazie, grazie, ciao Zendera, Masella, Masella, Michele, Salvatore, Menza Salma, ciao Patrizio, ti parlo da Casetta, sei un vero, trattenitore, grazie, 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 sono un ottimo trattenitore, grazie, un saluto a tutti gli amici, calabrese, veramente, Maria Renge, ciao Maria, Carlo Valenti, ciao da Palermo, Vittorio Locontro, un saluto da Boston, una persona che dice la verità, grazie Vittorio, Laura Avullo, Campanella, ciao Zenzero da Trapani, io decisi di condividere la canzone, Picciotti, su YouTube, ok, sei grande, grazie Giovanni, allora, fai vedere i tuoi nipoti, che sventano la orrenda, va bene, io che sto, a te fosse, per davvero, Paolina Mitica, Giovanni Acquisito, Francesco Giussi Friscia, ti osservo, ciao, ciao Francesco Giussi Friscia, Paolina, ti allora, salvo Fiorello, un saluto a Monza, grazie, Calogero, mento, mentola, mentola, purtroppo, dormo fino a tardi, perché lavoro la sera, va bene, ok, va bene, Picciotti, io vi devo lasciare veramente, un abbraccio, ciao, Ermelinda Gentile, Silvana di Costa, grazie, Vincenzo, saluto a tutti, Picciotti, a qualcuno l'ho saltato, perché, mentre capallo, non puoi parlare, e salutare, un ciao da Marsala, Agata, ciao Agata, Bonomo, Domenico Rapace, un saluto da Campo Calabro, Coco Friscaletto, ciao da Lieci, Belgio, saluto a tutti paesani, compaesani siciliani, italiani, sparsi per il mondo, allora, Vito Maletti, ciao Zenzio, tua canzone farà successo in America, allora, tutto il mondo, grazie, se condividi, grazie, grazie, speriamo che la canzone piace, Giochino, Spambinato, buonanotte, Salvatore Di Stevolo, un abbraccio a Giuseppe Di Mauro, come va il nuovo video musicale, buono, buono, Antonino, quando se facete conoscere qualcuno, magari, c'è chi segue, o non segue, qualcuno che mi segue, certo che lo sanno, nel Meridione, c'è anche la Basilicata, un abbraccio a tutti, scusate, io saluto tutta l'Italia, Giovanni Rossotto, ciao Giovanni, Giuseppe Maggi, saluti da Palermo, ciao Zenzero, Calogero, ciao Calogero, sono leader, ti seguo lo stesso, grazie Calogero, Giuseppe Di Mauro, come va la nuova canzone, buona, arriva, allora, ok, 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 Mara, Calogero, buonissimo, Nino, Pizz, eh, Prinzitaro, ciao Nino, ok, picciotti, vi saluto, un bacione che ha fatto la vol, da Zenzero e Limone, da Villarose, Salvatore Lobullo, questo è l'ultimo saluto, da Canigattie, tutta la Sicilia, salutiamo, buonanotte, picciotti,